Voluto dagli imperatori d'Austria, il castello San Giusto fu edificato in stadi successivi dal 1468 al 1636. Questo vasto spazio scoperto è chiamato cortile delle milizie, probabilmente a seguito dell'utilizzo militare del maniero a partire dalla metà del Settecento. I camminamenti di ronda allo scoperto, che corrono lungo la sommità del perimetro delle mura del castello, mettono in collegamento i tre bastioni. Il cinquecentesco bastione rotondo o veneto rivolto a occidente. Il poligonale bastione l'aglio rivolto a sud-est. Il triangolare bastione fiorito rivolto verso l'entroterra. Lo splendido panorama che si gode da questi spalti consente di abbracciare con lo sguardo tutta la città di Trieste. Testimonia eloquentemente quanto il castello sia stato edificato in una posizione strategica dominante. Il percorso espositivo del Museo del Castello, ripensato nel 2018 in occasione della mostra Le Stagioni delle Armi, si snoda nella casa del capitano Tardo Quattrocentesca. Un plastico di inizio novecento, raffigurante la città prima dell'espansione setteottocentesca. Questa stanza quattrocentesca ha mantenuto la sua struttura originale, con la volta a nervature tardogotiche e l'originario pavimento incotto. La collezione di armi si è formata attorno a un nucleo di antiche armi da guerra e da labarde cittadine. Grazie a doni di collezionisti privati ed acquisti sul mercato antiquario, ha assunto una notevole consistenza alla fine del XIX secolo. Le armi oggi esposte nei tre camminamenti di ronda al coperto sono caratterizzate da una notevole varietà, sia cronologica che tipologica e di provenienza. Mirano ad offrire una traccia dell'evoluzione dell'armamento in Europa tra il XII ed il XIV secolo. La sala Caprine è stata ricavata durante i restauri degli anni trenta del novecento, unendo i due piani originari che appartenevano al prolungamento cinquecentesco della casa del capitano.